Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, non vi spaventate per i capelli, torneranno ricci anche se molto più corti. Questo è il terzo video di una piccola serie dedicata ai viaggi in solitaria e dopo aver visto i buoni motivi per viaggiare da soli almeno una volta le migliori destinazioni. Oggi è il turno dei consigli per conoscere persone nuove o comunque farsi dei compagni di viaggio anche quando si viaggia da soli. Quindi direi di partire subito e cominciamo con il primo consiglio che si può fare prima di partire, ovvero cercare dei gruppi su Facebook che possono essere italiani e inserite la vostra destinazione oppure condividere il vostro itinerario, la vostra prossima tappa su applicazioni o portali come Travel Buddy. In questo modo potrete vedere chi si trova nella zona che frequenterete voi e magari anche vedere se vi propone qualche attività che possa interessarvi. Un'altra applicazione che vi lascio scritta qua è un'app che aiuta a conoscere persone in aeroporto quindi ottima se viaggiate appunto in aereo. Tramite quest'app potreste anche riuscire ad apprezzare un ritardo aereo. Terzo consiglio è quello di aggregarsi ad un tour magari tipo il free walking tour di quelli che ci sono praticamente in tutte le città turistiche. Non solo vi darà un'idea di quello che potete fare in città ma potrete conoscere altri viaggiatori che appunto viaggiano da soli con cui condividere magari un aperitivo o una cena dopo il tour. Il consiglio forse migliore è quello di condividere l'alloggio che sia con couchsurfing, con le camere condivide in ostello oppure una stanza in un appartamento da condividere su Airbnb. Condividere l'alloggio è assolutamente il modo migliore per incontrare nuove persone. Questo perché vi permetterà di entrare in contatto e interagire o con altri viaggiatori o con locals che eventualmente possono anche farvi da ciceroni o darvi qualche consiglio utile su cose non troppo turistiche da fare nella città che state visitando. Gli ostelli peraltro spesso organizzano cene, eventi o altre attività che per l'appunto hanno lo scopo di far socializzare quindi assolutamente consigliati. Altro consiglio è quello di condividere le esperienze possono essere quelle di Airbnb, attività o tour offerti su With Locals o Meetup eccetera, ci sono migliaia di portali. Le attività e le esperienze pensate per i viaggiatori sono in genere assolutamente utilissime perché vi permetteranno di conoscere altre persone che tra l'altro hanno i vostri stessi interessi. Ma la stessa cosa vale per l'Instameet in cui appunto posso incontrare altre persone appassionate di fotografia per esempio. Mentre per chi viaggia campeggiando vi consiglio il portale Garden Sharing che mette in contatto appunto questa tipologia di viaggiatori con persone che hanno delle aree verdi che mettono appunto a disposizione dei viaggiatori e mettono appunto in contatto queste due categorie. Bene ragazzi spero che il video vi sia stato utile, di avervi dato qualche spunto, se avete qualche altro portale di quelli che non ho nominato, se ne sono veramente tantissimi lasciate un commento qui sotto, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se non lo siete, magari attivando anche la campanella in modo tale da rimanere aggiornati sui video che caricherò. In descrizione vi ricordo che trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure e in quello che faccio durante le mie giornate. Noi ci vediamo al prossimo video, have a nice life!